Musica Venerdì 14 novembre San Giocondo è il 318esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 47 al termine. Il sole sorge alle 7.08 e tramonta alle 16.42, la luna si leva alle 23.51 e tramonta alle 12.45. Il senato veneto decreta siano vietate le contraffazioni dei libri stampati da Aldo Manuzio, concedendogli il privilegio per 10 anni. Quarantunesima mostra dei vini Montello e Colli Asolani all'ex ristorante La Paesana a Volpago del Montello. Dal 14 al 30 novembre, tre weekend da non perdere. Venerdì 14 e sabato 15, serate con i Magnari De Navolta. Domenica, dalle 11, apertura mostra dei vini e prodotti locali. Musica Le previsioni per domani, da molto nuvoloso ha coperto in varie fasi con parziali riduzioni della visibilità. Precipitazioni, aumento della probabilità a partire da ovest per fenomeni per lo più diffusi anche a carattere di rovescio o d'occasionale temporale, localmente abbondanti specie sulle zone centro-settentrionali. Limite delle nevicate a 1900-2200 metri, anche un po' più in basso alla sera sulle Dolomiti. Temperature minime stazionari o in contenuto aumento, massime in generale diminuzione. Musica Musica Musica